Musica Ogni primo sabato del mese noi leggiamo questa lettura dell'Apocalisse e questo brano del Vangelo di San Giovanni Siamo invitati a contemplare questa donna vestita di sole di luce divina piena di grazia, di santità divina ed è mia madre è la mia mamma non è una creatura lontana nel cielo è vicina a Dio ma proprio perché è vicina a Dio con Dio e vicina anche a me in ogni momento della mia vita è con me io sono in lei nel suo cuore in maconato e materno che mi è stato donato come rifugio in mezzo a questi pericoli conforto in queste tribolazioni e via che mi conduce a Dio perciò la voglio prendere veramente come ha fatto Giovanni come mamma nella mia casa nel mio cuore nella mia vita vivere con lei per lei ed in lei che è come vivere in Gesù con Gesù e per Gesù è la stessa cosa perché Maria e Gesù sono un tutt'uno fusi uno nell'altro e così siamo chiamati a diventare anche noi fusi con Gesù e con Maria ed è possibile per grazia per dono non per nostra capacità non per nostra bravura non ci arriveremo mai ma è un dono di Dio a questo siamo chiamati dobbiamo crederci non dire non sono degno non sono pronto non ce la faccio no dille tuo sì poi Dio farà il resto per portarti giorno per giorno sempre più dentro a quel cuore sempre più dentro in questo regno della sua divina volontà sulla terra in questo ci aiuterà anche San Giuseppe abbiamo letto oggi questo messaggio del 19 marzo 1984 solennità di San Giuseppe sposo casto e fedele collaboratore prezioso nella custodia amorevole del bambino Gesù con Maria Santissima siano in voi il suo silenzio il suo nascondimento il suo quiete interiore di un silenzioso colloquio con Gesù e con la vostra mamma celeste questa sia la nostra vita di Nazareth di casa silenzioso colloquio interno non sempre possiamo pregare quando siamo al lavoro o con gli altri però c'è sempre questa comunione di cuori di sguardi con Gesù con Maria con Giuseppe per poter vivere nel stesso clima di fede di amore di gioia che c'era nella santa casa di Nazareth abitata dal Dio fatto l'uomo presente in mezzo a noi con noi e in noi poi continua dicendo ancora affidate voi e anche il mio movimento alla sua potente protezione di San Giuseppe dice Maria come ha saputo difendere la vita minacciata del bambino Gesù così ora difenderà voi in questa mia opera di amore nei momenti in cui dal mio avversario verrà attaccata e curiosamente combattuta come è proprio adesso l'ultima battaglia ultimi tempi ma stiamo attendendo come annunciamo ad ogni Santa Messa annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta che è imminente perché è stata profetizzata anche da Don Stefano Gobbi signora sta per tornare vieni presto Signore Gesù vieni lo spirito e la scuola dicono vieni Signore Gesù Maronata ed è lì viene è già qui con noi ma verrà anche in modo potente sulle nuove del cielo per giudicare i miei morti e per stabilire sulla terra il regno di giustizia di amore di pace come proclama la Chiesa nel prefazio della festa di Cristo Re che verrà come il Re a regnare finalmente perché non ne possiamo più di questo momento così trabagliato ma però siamo con Maria con Gesù e con Giuseppe loro sono la nostra forza nostra consolazione nostra gioia e pace per questo voglio prendere lo spunto anche delle letture della messa di oggi profeta Isaia che annuncia sempre pace e felicità popolo di Sion consacrati alla Madonna e al suo cuore maforato che abiti in Gerusalemme che è Maria tu non dovrai più piangere sta arrivando questo tempo nel cuore tu non dovrai più piangere perché il tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia appena ti darà risposta percorri a Lui con la tua fiducia quella fiducia che dà a Dio la possibilità di fare miracoli per te in questo tempo perché veramente deve essere il tempo dei miracoli questo perché umanamente parlando non c'è salvezza perciò Dio verrà e si adempiranno per le parole che Gesù ha detto nel Vangelo di oggi rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele i nostri familiari la strada facendo predicate dicendo che il Regno di Sieli è vicino Dio è vicino non siamo stati abbandonati è vicino Dio e guarite gli infermi risuscitate i morti guarite i lebrosi scacciati i demoni questo potere è stato dato a chi crede non solo ai sacerdoti o alle persone consacrate ma a chi crede perché Gesù vedendo le folle ne sentì compassione e vedo che non possiamo più neanche curarci non si può più neanche andare all'ospedale il Signore vuole intervenire con la sua potenza donandoci guarigione liberazione crediamo e Dio farà per questo voglio darvi lettura di un riassunto di una predica che ha fatto padre Ghislain Roy Roy sentito mai nominare qualcuno di voi sì io ho fatto un ritiro spirituale con lui a Megigoglie per tutti i sacerdoti del mondo che hanno aderito a questa chiamata l'ho conosciuto personalmente è un santo sacerdote santo ed è anche un grande carismatico ormai ormai proprio approvato solidificato dalla prova del tempo per cui Maria Santissima continua ancora a darci messaggi molto attuali in questo tempo ascoltate la predica che ha fatto domenica scorsa prima domenica di avvento nella divina volontà ieri quando mi fermavo e pregavo ebbene il Signore mostrava il mio cuore le grazie piene che vuole donarci durante tutto questo tempo di avvento in preparazione al Santo Natale e per le azioni che dovremmo compiere in questo tempo di avvento il primo a partire da oggi eccolo qua da oggi era domenica scorsa quindi per tutto questa settimana sarebbe stato rimani attento e prega in ogni momento per questo vi invito a fare regolarmente e specialmente durante la notte a vostro risveglio oppure a rispetto di pomeriggio la coroncina della divina misericordia dove sono tante le grazie che Gesù vuole fare per le anime di qui come anche per le anime del purgatorio all'inizio della coroncina della divina misericordia dite nella vostra divina volontà è il potere divino che Dio ha messo nelle nostre mani la divina volontà il potere divino perché dicendo queste parole voi invitate il Signore a venire a pregare in voi Maria che prega in noi Gesù che prega in noi e la tua pregherà acquista un potere divino come fosse Gesù che prega in te Maria che vive in te e prega in te quindi dite nella tua divina volontà vieni Signore a pregare in me vi invito anche a iniziare domani era lunedì quindi la novena che ci condurrà alla bella e grande festa dell'immacolata non ancora dirvelo perché certamente voi già lo state facendo ogni giorno vi invito a inginocchiarvi ai piedi di una statua della Madonna e dire semplicemente a Maria o Maria Madre mia ti consacro a te ti consacro tutta la mia famiglia la mia patria ti consacro tutto al tuo cuore immacolato ogni giorno una breve consacrazione per noi per i nostri cari per il mondo intero secondo gesto da fare domenica prossima domani ascoltate molto interessante dove sarebbe invitati a usare l'olio benedetto ed esorcizzato ce l'avete a casa l'olio benedetto esorcizzato usatelo facendo così a benedizia a vicenda marito con la moglie moglie del marito mamma con i figli papà con i figli usatelo questo olio benedetto esorcizzato usatelo ogni giorno il Signore promette grandi grazie di liberazione di guarigione dei cuori delle anime e anche dei corpi facendo questo gesto su di voi su altre persone o anche sui malati sui malati fatelo anche voi Dio vuole guarirci l'ha promesso se non lo fa adesso quando lo farà crediamo e Dio farà poi terza domenica di avvento domenica 12 dicembre è la domenica della gioia la domenica gaudete no? ecco questo è ciò che la Vergine Maria mi ha ispirato a fare perché sarà anche la festa di Nostra Signora di bravissimi Guadalupe sarete invitati per domenica 12 dicembre a portare a casa comprare delle rose che lui padre Ghislaine benedirà durante la messa che lui celebra per via streaming dal Canada lui è del Canada al pomeriggio della domenica gli benedice però se qualcuno non può quel momento lì magari andate anche in qualche santuario dai frati padre Leopoldo o sant'Antonio c'è sempre qualche frati per benedire domandate per voi le benedizioni anche per queste rose fatele benedire queste saranno come le rose che Juan Diego il Vegente di Guadalupe portò al Vescovo durante il periodo invernale e il Vescovo fu stupito di vedere prima le rose ma anche l'immagine della Vergine di Guadalupe che è stata impressa nel manto di Juan Diego che indossava queste rose portava queste rose porterete queste rose durante la Messa che cebrerò questa domenica 12 dicembre appunto e dopo prenderete ciascuno dei petali di queste rose attenzione prendete i petali di queste rose che saranno petali benedetti e li distribuirete ai malati o alle persone che conoscete il Signore mi mostra che quando queste persone porteranno questi petali di rosa sui loro cuori molti saranno liberati o guariti attraverso questi petali di rose che sono stati benedetti durante la Messa e la Vergine Maria mi ha mostrato che da questa domenica 12 dicembre per tutta la settimana attraverso questi petali di rose sono tante le grazie e le gioie che si riflettono anche nel cielo donate della Vergine per noi per le nostre famiglie per le liberazioni e anche per le guarigioni quarta domenica 19 dicembre visiteremo con la Vergine Maria sua cugina Elisabetta la Vergine Maria anche qui vuole concederci le grazie della visitazione per la tutta la settimana della quarta settimana di avvento quando saremmo invitati da quella domenica fino alla festa di Natale a dire il Magnificat sette volte al giorno per quella settimana lì capite? ogni giorno sette volte il Magnificat perché? la Vergine mi stava mostrando che tra le persone che stavano per citare questi sette Magnificat c'erano tante grazie liberazioni dall'oppressione dalla depressione dalla ossessione dalla tristezza nelle famiglie dalle divisioni che si trasformavano in riconciliazioni e tutto semplicemente dicendo ogni giorno i sette Magnificat prima di Natale per questo il mese di dicembre di preparazione al Natale sarà tempo di grazia straordinaria così forte che il cielo ci dona prenderci consapevoli per liberarci per guarirci per visitarci e questo sarà dato alle persone che vivranno questi passi con fede ve li ripeto prima domenica che ormai è già conclusa era la preghiera attenta in ogni momento e la coroncina della Divina Misericordia secondo domenica usare l'olio benedetto esorcizzato usarlo tra di voi in famiglia e anche con i malati benedire potete farlo anche voi usando il vostro sacerdote battesimale ti benedica Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo farete così semplicemente sulla fronte dei malati o dei bambini vostri terza domenica comprare le rose farle benedire portarle a casa prendere i petali portarli sul cuore per voi i vostri figli gli ammalati avverranno guarigioni quarta domenica cominciare a dire ogni giorno fino a Natale sette volte al giorno il magnificato grandi cuore ha fatto il Signore per noi che è l'onnipotente per questo il mio cuore esulta nel Signore la mia anima esulta nel mio Dio che è il mio Salvatore soltanto in Lui c'è salvezza proclamiamolo cantiamolo e vedremo le meraviglie che Dio vuole fare per mezzo di Maria ai Suoi figli tanto devoti anzi non devoti ma figli pieni di fiducia e di amore per la nostra Mamma Celeste che vuole ottenersi queste grazie speciali straordinarie in questo tempo di preparazione al Santo Natale ci ero dato il Gio Cristo con Maria grazie a tutti